Oggi ho capito qual è quell'elemento che mi fa avvicinare leggermente a Bugli e al Governatore Rossi. È un'incazzatura facile. E io che sono di Carrara, tra l'altro, come dire, ce l'ho un po' nel sangue. E c'è una differenza però, che voi siete abituati a fare i forti con i deboli, e i deboli con i forti, e noi facciamo l'esatto contrario. Mi rivolgerò tra forti, Bugli. Hai ragione su una parte del tuo intervento, ma mi fa leggermente ridere quando dici dovremmo chiederci qual è il ruolo della regione toscana nella riforma del titolo quinto. Ma io penso che dovremmo chiederci se sono queste, queste riforme istituzionali, le priorità per il Paese, per la Repubblica italiana. Secondo noi no, non sono queste le priorità. Tra l'altro ci troviamo oggi a rispondere a scelte approssimative e dilettanti dei professionisti della politica. E il paradosso è questo, che i professionisti della politica producono le riforme più approssimative e dilettantistiche. E noi tra l'altro siamo chiamati a rispondere a scelte irresponsabili del governo Renzi. Capisco l'imbarazzo del governatore Rossi, che si trova a dover dare risposte a del personale delle province che non ha davanti a sé l'assoluta incertezza. Anche perché a tre giorni della scadenza forse saremo l'unica regione in Italia a dare qualche risposta. Ma non possiamo non parlare del quadro complessivo, di una riforma del Rio. Una riforma irresponsabile. Cito un articolo del Sole 24 ore, che dice proprio il conflitto perenne è l'altro grande problema per qualsiasi riforma aggravato quando il conflitto non si accende fra controparti come sono i sindacati ma fra pezzi dello Stato. In prima fila fra i resistenti ci sono in questo caso le regioni a cui la legge del Rio chiedeva di decidere quali compiti lasciare alle province e quali invece spostare. I governatori hanno usato questa autonomia per non decidere, per fingere di decidere con le catene di leggi locali che rimandano a successivi provvedimenti attuativi o semplicemente di non toccare nulla. E tra l'altro questo avveniva già qualche tempo fa. Ci ritroviamo a tre giorni dalla scadenza dove prendere questa seria decisione così importante. Ora si tenta di rilanciare il tutto tra prove d'intesa su centri per l'impiego e minacce di sanzioni sui bilanci ma la soluzione è lontana in questo tutti contro tutti si arriva anche a battaglie e intestine fra gli stessi enti locali dove ricordo che tra l'altro la maggior parte lì governate voi del PD. cosa dire riguardo a questo? Io come Movimento 5 Stelle esprimiamo il più sentito e serio voto negativo perché nel merito non può essere condivisibile questo documento prodotto dalla maggioranza. devo rilevare alcune questioni. Avete parlato di una riforma che nasce da una pressione di cittadini che volevano inchiodare la politica e le proprie responsabilità per un taglio dei centri di spesa inutili. Cosa ha prodotto questa riforma? Avete cacciato dalla porta 1774 consigli provinciali eletti e non 3000 come raccontate e fate rientrare dalla finestra 26.000 nuovi consiglieri e 5.000 nuovi assessori perché questo prevede la riforma. Allora non vi dovete offendere quando si parla di blef non tornano i numeri siamo seri quindi 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 siamo chiamati comunque a dare delle risposte a il personale della provincia che altrimenti rientrerebbe in questa lista di esuberi. Hanno il nostro più massimo sostegno e solidarietà. Siamo vicini a loro per questa incapacità di chi ci governa della politica di non aver dato a loro risposte in tempi utili e seri. Grazie.